È una grande disponibilità del maestro Luisotti, per noi è il completamento di un grande programma di rilancio del nostro lirico, del nostro grande San Carlo e l'abbiamo voluto fare dando certezze finanziarie di una programmazione quinquennale e l'abbiamo avviato l'anno scorso come regione dando un segnale forte al mondo della lirica, al nostro straordinario teatro perché doveva ritornare ad essere il primato mondiale, europeo mondiale, l'italiano c'era già da tempo e quindi però doveva avere questa garanzia di una programmazione lunga perché non si può improvvisare di anno in anno questo è stato fatto anche per merito della gestione commissariale dell'avvocato Anastasi che ha permesso di tenere i conti in ordine quindi abbiamo riavviato la fase ordinaria con una bella programmazione e siamo molto felici di avere altissime professionalità su tutto il campo musicale che ora devono completare quest'opera che avviate e darne poi quella che è il vero cuore di questo grande teatro grazie grazie grazie